Questo video sarà un po' più complicato del solito, intanto perché ho un mal di testa che non vi dico, ma poi ho voluto con me chiaramente il prodotto che devo recensire ed è un monitor anche piuttosto grande, solo che io qui ho davvero pochissimo spazio, in più ci sono luci, il che significa riflessi, poi quando c'è uno schermo è sempre complicato bilanciare la sua luminosità con l'esposizione, insomma quindi spero che vada tutto bene. Parliamo del Huawei MateView 28,2 pollici, che è un monitor che personalmente ho nel mirino da parecchio tempo, insomma ho iniziato a segnalarlo credo forse più o meno dal periodo del Black Friday dell'anno scorso, perché è iniziato a vedersi spesso in sconto e soprattutto mi ha colpito perché da tanti anni che non vedo un monitor in fascia media con delle buone caratteristiche, anche dal punto di vista del design, perché sembra che quando fai un monitor se non lo fai brutto insomma in qualche modo non sei soddisfatto, ma fortunatamente Huawei ha spezzato un po' questa regola e quindi un bel monitor onestamente, mi è piaciuto fin dal primo momento dalle immagini, con anche caratteristiche piuttosto interessanti, lo schermo 28,2 pollici, tre mezzi, su questo ci ritorniamo, è un IPS, una bella risoluzione, casse integrate, microfoni, ha tutta la serie di connessioni, anche la possibilità di gestire un ingresso video USB-C con ricarica Power Delivery, insomma tante cose in un prezzo che spesso va in offerta a 550 euro, il listino è circa 700, mi è sembrato veramente un po' un miracolo onestamente, e quindi l'ho consigliato più volte a chi mi ha chiesto un prodotto in questo range insomma di prezzo. Io solitamente compro monitor più costosi perché lavoro nel settore dell'immagine, del video eccetera, quindi ho iniziato con quelli con i CRT, i Neck, i Azo, le C Blue, non so se li faccio ancora, le C forse è uscita dal mercato dei monitor, però diciamo che nella maggior parte dei casi non si spende tantissimo per un monitor, si cerca un buon prodotto con delle belle caratteristiche anche estetiche e questo secondo me è proprio perfetto. Solo che non l'avevo mai provato e onestamente a me consigliare una cosa senza averla provata dà fastidio e quindi avevo questo pensiero ricorrente, così più di un mese fa l'ho comprato, l'ho comprato, l'ho messo su una seconda scrivania, non in quella principale di lavoro perché onestamente non puoi cambiare monitor così per chi lavora appunto con l'immagine perché ti sballa completamente la catena della colore, però l'ho messo su un'altra scrivania e spesso con il portatile, quindi l'ho adoperato per scrivere documenti, per guardare film, insomma l'ho provato nelle normali circostanze d'uso e per oltre un mese perché onestamente provare un monitor per una settimana vi dico non va bene perché non notate tante cose che vengono fuori con il tempo. Quindi vi parlo un po' di questo MateView 28,2 pollici e inizio col dirvi che alcune cose onestamente poi non si sono rivelate valide come avevo immaginato. Non so se per una mia sovrastima o semplicemente perché insomma sono così. Comunque quando arriva vi dico il pacco molto bello perché in effetti è un blocco unico e qui ci torniamo subito perché è un aspetto importante e quindi è già montato per cui lo togliete fuori dalla scatola, via le plastiche, c'è più di qualcuna e poi siete pronti. Bellissimo, onestamente un'esperienza che vi dico rispetto all'ultimo monitor che ho comprato che dentro era una specie di puzzle, c'erano 60 pezzi di cartone dovevi togliere e poi scoprire come mettere insieme il tutto. Quindi bella l'esperienza di unboxing assolutamente. Però questo nasconde anche un difetto del prodotto per alcuni usi, non per tutti cioè che essendo un blocco unico non si può adoperare senza la sua base quindi non ha per dire l'attacco Vesa quindi se lo dovete utilizzare in alcuni ambiti professionali o comunque ne volete mettere due senza avere le basi davanti insomma con questo monitor non si può fare. Così come sul fronte ergonomico ci sono delle altre limitazioni perché lui può andare a regolarsi in altezza vi faccio vedere di lato meglio da un minimo di questa altezza è un massimo che arriva qui e poi si può inclinare molto poco in avanti e anche poco 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 indietro. Ora queste sono le uniche regolazioni possibili quindi non si può orientare in orizzontale insomma poco mali, non l'ho mai utilizzata quella cosa anzi mi dà fastidio se si sposta e poi non riesce a metterlo dritto. E poi non si può neanche ruotare quindi non potete adoperarlo per esempio in verticale la classica modalità Pivot che molti monitor di fascia alta o comunque per ufficio hanno perché chi li utilizza li apprezza molto non so per il coding quindi dal punto di vista ergonomico nel senso che ci sono situazioni in cui va benissimo situazioni in cui meglio stare un attimino attenti ma queste sono cose che vengono fuori abbastanza chiaramente dal sito. Una cosa che non avevo immaginato però è che è tutta plastica tranne quello snodo che vi ho fatto vedere qui dietro sicuramente qualcosa anche all'interno perché ha il suo peso non eccessivo anzi per un monitor è pochissimo però non è eccezionale dal punto di vista costruttivo non devo ammettere mi ha un po' deluso perché mi ero fatto un'idea differente tra l'altro anche le finiture sono un po' così perché per dire questa zona almeno nel mio esemplare poi sicuramente varierà da prodotto a prodotto non c'è un perfetto allineamento delle due parti di plastica quindi sono non perfettamente in linea un po' storte quindi si vede che se sei pignolo insomma noti qualche imperfezione anche qui negli accoppiamenti lungo la parte posteriore del monitor però ecco ad un colpo d'occhio no ad un colpo d'occhio va benissimo molto carino e se non lo sai che questo non è metallo oddio forse un po' si nota per la colorazione insomma però fa sicuramente la sua bella figura e siccome siamo in fascia media non è che possiamo chiedere i miracoli quello ci sta quindi un prodotto che già qui una piccola delusione personalmente me l'ha data però il fatto di avere un pezzo unico è anche un vantaggio dal punto di vista delle porte permettetemi un altro giro perché ha potuto Huawei sfruttare anche il piedistallo per cui non abbiamo quelle porte tipo LG che le piazza qui che sono brutte perché poi devi gestire il cavo e non sempre riesci perfettamente o per dire dei BenQ quello che ho io di fascia pro però ha un blocco qui che si deve togliere una copertura e poi le prese in verticale vi dico una cosa ogni volta che devo attaccare una presa lì mi faccio il segno della croce perché è una cosa scomodissima qui no fantastico le porte dietro sono bellissime facilissime da raggiungere visibilissime anche e abbiamo una USB-C che gestisce l'alimentazione molto bello anche l'alimentatore un bel blocco pesante tutto nero con la parte che si sgancia per gestire la prolunga un ingresso mini displayport e un ingresso HDMI se usate questi date veramente da Dio perfettamente però purtroppo c'è un contro che non avevo capito bene inizialmente cioè Huawei ha messo la USB-C qui di lato il problema è che la USB-C è comunque un ingresso è comunque un ingresso video e allora è vero che molto spesso si usa con i portatili e quindi l'idea è probabilmente di poterla attaccare e staccare facilmente ma in realtà punto primo qua dietro rispetto ai monitor normali c'era un'ottima comodità quindi anche averla dietro non sarebbe stato un problema ma soprattutto non devi attaccare e staccare questa no questo cavo lo lasci sempre attaccato l'altra parte è quella che attacchi dal computer e se non vuoi il cavo penzoloni così sulla scrivania compri un cable drop di 2 euro lo attacchi qui di lato con l'adesivo e via hai il cavo nascosto quando vuoi lo tiri via e sei pronto quindi questa cosa Huawei non la perdono ci sono rimasto di un male ragazzi ad avere questo cavo USB-C qui di lato perché poi anche se porti il monitor più giù che puoi e comunque non è bellissimo non lo copri quindi no questa cosa per me bocciata le porte aggiuntive qui di lato ci stanno abbiamo due USB in formato A quindi quelle standard l'uscita da 3,5 mm e il pulsante accensione e spegnimento però anche lì se voi volete creare una postazione in cui avete una serie di periferiche connesse al monitor per non stare ad attaccare tanti cavi al computer siccome non c'è comunque la possibilità di avere una USB di nessun tipo sul retro vi troverete che qualsiasi periferica dovete connettere che sia non lo so una tavoletta grafica delle casse esterne un microfono USB quindi qualsiasi cosa avrete dei cavi che escono da questo lato io questa cosa non l'ho per niente apprezzata però va detto che nessuno o per meglio dire non tutti hanno obbligatoriamente la necessità di adoperare chissà quante connessioni come faccio io che ho due dock in cascata e non mi bastano però in questo caso il problema se vogliamo è che ci sono delle casse integrate ma sono comunque delle casse stereo insomma le dimensioni come l'avete visto non è che vi potete aspettare chissà che cosa e poi ci sono anche due microfoni per eventualmente una call per quello vanno assolutamente bene ma non più di quello quindi è un pacchetto diciamo multimediale che è piuttosto interessante come proposizione ma poi se vuoi effettivamente qualcosa di più perché questo audio può andare bene per informazioni per notifiche di sistema insomma non certo con piacere qui ci ascolti della musica o dei video allora ti troverai a collegare delle periferiche esterne e lì onestamente queste porte a me non fanno impazzire ma andiamo avanti parliamo un po' di altre caratteristiche il controllo molto bello devo dire anche qui qualche piccola criticità da segnalare ma non più di tanto abbiamo una barra touch qui alla base che secondo me è validissima per il controllo volume perché fai così fantastico gestisce anche lo swipe come potete vedere ed è istantaneo però per il controllo nei menu insomma non è sempre intuitivo perché un tocco entra praticamente nei menu e poi ti sposti e il doppio tocco esce comunque va indietro di un livello solo che per dire mi è capitato durante le fasi di test di voler regolare che ne so la luminosità all'80 perfetto e lui faceva 79 con gli swipe 82 81 78 insomma ci ho messo un'ora per beccare 80 preciso e poi anche il tocco e il doppio tocco devi un po' capire il ritmo perché a volte non riesci in qualche modo ad avere una risposta precisa quindi un sistema di controllo sicuramente più smart di tanti altri prodotti che di base non mi dispiace affatto ma con ovviamente le sue criticità insomma ogni cosa ha dei pro e dei contro questo è classico d'altro canto voglio subito segnalare che il livello di controllo dalle impostazioni è molto molto risicato ne parlerò di più parlando appunto del colore ma ci sono veramente poche poche opzioni sul riproduzione diciamo cromatica anche sul funzionamento del monitor in qualità di monitor però non funziona solo come monitor o per meglio dire può funzionare anche senza un computer infatti se voi all'inizio lo accendete avete un suo wallpaper insomma un suo sfondo con delle opzioni che possono essere attivabili senza l'ausilio di un input video infatti lui ha il bluetooth quindi si possono collegare ad esempio un mouse o una tastiera bluetooth così come si possono connettere direttamente alle porte usb laterali se volete fare qualcosa di ancora più semplice e qui vedete che questa cosa ci teneva a farla in diretta perché ogni tanto il monitor ha dei problemi nella gestione degli input vedrete poi anche rimettendo il computer certe volte non prende subito l'input giusto e credo che dipenda proprio dal fatto che lui abbia una sua autonomia per certi versi quindi anche lo switch tra gli input non è semplicissimo perché quando viene invece ad essere utilizzato così in forma nativa insomma lui ha già una serie di opzioni ora vediamo qua ho beccato l'input quindi non è quello che mi interessava vediamo di uscire ecco qua e abbiamo la possibilità che ora vi farò vedere di una proiezione wireless ma anche delle impostazioni con il bluetooth come vi dicevo potete collegare delle periferiche esterne ma interessante è il wifi perché con il wifi voi potete gestire l'upgrade del firmware del monitor però vi dico subito io allo stato attuale con l'app Huawei per iOS e per Android ho provato anche con diversi smartphone non sono riuscito a fare questo abbinamento nel senso che mi trovo il dispositivo poi mi dice che sono da una parte sbagliata insomma credo che sia un problema della nazionalità del mio account Huawei che attualmente è europeo insomma quindi non so se è una cosa che verrà risolta a breve o se ho avuto solo io questo problema ma non sono riuscito a configurarlo con la modalità tramite app però visto che si possono connettere come vi dicevo delle periferiche io ho connesso un ricevitore Logitech Unifying a cui avevo abbinato due tastiere una tastiera e un mouse Logitech appunto wireless e quindi sono riuscito ad avere la schermata completa del Wi-Fi che non è questa la schermata completa vi consente con il solo monitor di vedere la lista delle reti Wi-Fi e abbinarvi da lì poi potete quindi fare l'upgrade su internet direttamente del monitor attenzione a non attivare però l'opzione di aggiornamento automatico perché poi parte quando dice lui un po' come Windows quindi mi è capitato mentre stavo lavorando a un certo punto si è spento il monitor dico che è successo si è rotto poi invece ho capito che era partito il suo aggiornamento quindi il computer era acceso ma il monitor si stava aggiornando insomma star dietro anche agli aggiornamenti dei monitor non è il massimo quindi sì va bene che si possa aggiornare così ma preferisco fare io un controllo manuale di tanto in tanto ora la cosa che bisogna considerare quindi è che nel passaggio diciamo tra queste modalità lui non è che abbia delle opzioni aggiuntive come ad esempio non so delle app non è che può fare un gran che in più solo che se avete un prodotto di Huawei che sia uno smartphone o un computer ora vi farò vedere con uno smartphone ma prima conviene uscire da qua se no non lo fa ce la faremo ecco usciamo ancora usciamo ancora ok ce l'ho fatta se avete uno smartphone di Huawei in questo momento ho in prova un P50 Pro la recensione spero arrivi presto lo avvicinate in questa zona bassa se trovate il punto sentite una vibrazione il monitor parte con la modalità di proiezione wireless questa funziona di base con la duplicazione dello schermo che vi faccio subito vedere che è questa qui quindi avete il telefono in pratica oppure potete andare nella modalità che avete visto che è quella di desktop insomma che funziona un po' come il Samsung DeX per capirci molto carina perché in effetti intanto con lo schermo se non avete il mouse e tastiera collegati al monitor può essere utilizzato come un touchpad o per l'inserimento di testi non molto comodamente quindi il vantaggio qui di avere la possibilità di connettere delle periferiche di input dirette al monitor è molto evidente e però così è molto carino cioè veramente un solo telefono vi dà la possibilità di avere un piccolo ambiente che per una produttività semplice per vedere dei documenti navigare è molto utile tra le altre cose però devo segnalare che sono andato per esempio a vedere dei video di YouTube tramite il browser e lì ho notato un po' di imprecisioni nella voce come se non si tratta di un vero e proprio lag o dei vuoti però durante la riproduzione dell'audio sentivo ogni tanto delle parti un po' imprecise come se effettivamente l'audio fosse un po' in difficoltà quindi una riproduzione più in termini di utilizzo appunto più ufficio insomma che multimediale però molto molto interessante come possibilità sicuramente ritorniamo a mettere l'input del monitor e vediamo come va perché vi dico questo discorso dell'input a me ha dato qualche difficoltà sicuramente dipende da come si utilizza per carità io però ho notato per esempio avendo l'abitudine di mettere il monitor in stand-by e quindi di semplicemente chiudere il coperchio o mandare appunto il macOS insomma in stand-by senza mai spegnerlo e senza spegnere il monitor con questo qui quando poi ritorno dopo non so una serie di ore non ho potuto verificare esattamente quale fosse il limite oltre il quale succede ciò capita che lui si spenga completamente non semplicemente in stand-by e quindi quando tu riaccendi il computer con mouse e tastiera esterna se stai utilizzando il portatile in modalità desktop lui invece non si accende quindi devi ripremere il pulsante e in quell'occasione non sempre ha ripescato l'input corretto ora sì fortunatamente quindi magari ecco l'aggiornamento firmware che ho fatto qualche giorno fa ha portato dei vantaggi fatemi sapere nei commenti se lo utilizzate in questo modo con un monitor esterno se anche voi avete avuto qualche incertezza ogni tanto ma parliamo un po' del monitor in sé è un pannello IPS con una luminosità di 400 scusate 500 nit che è buona per l'uso tipico che se ne può fare al chiuso che sia un ufficio una casa eccetera supporta l'HDR 400 qui il 4 che prima mi ha confuso diciamo che va bene per eventualmente visualizzare dei contenuti con molta luce comunque ambiente ma ovviamente non è utile per la produzione di contenuti in HDR perché è troppo poca in questo caso la luminosità non che mi aspettassi di più insomma parliamo di un monitor di fascia media per cui ci sta assolutamente bene e però mi ha stupito in positivo devo dire il gamut perché in effetti il produttore dichiara un 100% di copertura a spazio colore sRGB che c'è verificato con sonda e un 98% dello spazio colore invece DCI-P3 che qui io ho riscontrato essere del 96 ma comunque ancora molto molto valido tra l'altro ha una buona consistenza proprio del colore in tutte le parti dello schermo abbastanza buono diciamo sopra la sufficienza per quanto riguarda anche la tenuta della luminosità su tutte le aree dello schermo mentre mi ha un po' spiazzato un po' teluso ecco se vogliamo dal punto di vista della tenuta diciamo del grigio medio a diverse luminosità perché da questo punto di vista soprattutto se andate nella modalità nativa diciamo del monitor per effettuare una calibrazione noterete che lui poi tende ad avere delle differenze insomma un mantenimento non preciso del grigio neutro mi spiego meglio allora se voi utilizzate le modalità colore nativa che sono due sRGB e DCI-P3 lui ha una precalibrazione di fabbrica che funziona discretamente bene però non ha nessuna opzione per quanto riguarda la regolazione del colore nessuna cioè neanche contrasto luminosità niente cioè luminosità sì ma non ha nitidezza contrasto tinta eccetera eccetera niente se voi volete queste regolazioni in più dovete attivare la modalità nativa che quindi è necessaria nel momento in cui volete anche effettuare una calibrazione perché ovviamente lì dovete avere un minimo di controllo appunto su contrasto nitidezza e temperatura colore che sono le uniche tre cose che si possono gestire su questo monitor ripeto solo adoperando la modalità nativa però in quel modo la calibrazione diventa complessa perché come vi dicevo non ha una tenuta del tono medio perfetta il che significa che voi tentate la calibrazione come succede per tutti i monitor di fascia medio-bassa non vi porta a grandi risultati perché vi porta tendenzialmente ad avere un grigio che poi a alcune parti diventa rosa alcune parti diventa ciano può succedere per calibrare un monitor di base deve essere un buon monitor non è che qualsiasi monitor lo calibri funziona bene questa è un po' una speranza che molti hanno ma in realtà non funziona così perché il monitor deve avere delle caratteristiche di base per poter essere calibrato nel modo migliore per ottenere dei migliori risultati se no in alcuni casi è anche peggio la calibrazione e questo è uno di quei casi nel senso che qui se lavorate con le modalità native sRGB ed i CIP3 andate tranquilli se invece utilizzate la modalità di riproduzione nativa per effettuare poi una calibrazione non vi troverete assolutamente bene almeno per me questa è stata l'esperienza infatti diciamo che poi la resa diciamo la posizione di questo monitor in termini di vendita secondo me è quella di un monitor comunque per uso un po' generico senza comunque escludere il fatto che grazie al buon gamut con le calibrazioni native sia comunque valido anche per gestire delle fotografie anche del video alla fine dei conti però appunto non muovetevi al di fuori delle calibrazioni native secondo me e non tentate una calibrazione se avete bisogno ad esempio di una corrispondenza cromatica per la stampa per dire questo monitor non va bene tornando a noi il pannello come vi dicevo 28,2 pollici in formato 3,5 è molto interessante perché in pratica è largo come un 27 pollici però è più alto e questo ovviamente trova un riscontro anche nella risoluzione che infatti è di 3840 pixel in larghezza come normalmente è per l'Ultra HD ma è di 2560 se ricordo bene lo scrivo anche qui in sovrimpressione per sicurezza in altezza quindi più del classico 2160 che è tipico invece del formato Ultra HD in 169 questo spazio in più a me è piaciuto moltissimo all'inizio spiazza un po' perché sembra un po' più quadrato come formato però intanto è il formato della fotografia tipicamente le fotografie sono in tre mezzi a parte che poi ci sono alcuni sensori che sono 4 terzi e gli smartphone che fanno quello che vogliono chi lo fa in 169 chi lo fa in 4 terzi chi no però di base la fotografia è in tre mezzi e questo formato vi consente di avere una fotografia a pieno schermo senza tagli senza spazi neri e se voi parlate comunque di elaborazione delle fotografie è comunque lo stesso il vantaggio perché se riducete la fotografia in proporzione avrete comunque un miglior margine per gestire le opzioni di controllo da un lato e insomma le thumbnail delle altre immagini in basso quindi è un formato molto molto utile in fotografia molto utile anche nel video perché sì perché il formato ultra wide che molti consigliano per il video è uno dei peggiori che potete immaginare sia perché lì la risoluzione nei formati ultra wide è molto bassa perché considerate che per avere questa altezza con un formato ultra wide dovete prendere un monitor credo 43 pollici perché i 34 hanno l'altezza di un 27 pollici e solo più spazio in larghezza però sono tipicamente 1440p quindi 1440px in altezza che è molto meno dell'Ultra HD che sono 2160 parliamo di monitor che hanno una densità piuttosto bassa e ovviamente non vi risolvono il problema della timeline che puoi vedere per intera nel montaggio video perché non la puoi vedere per intera anche in un video di 5 minuti non puoi lavorare con una timeline estesa perché le clip gli effetti saranno troppo piccoli per cui comunque devi scorrere in orizzontale meglio avere dello spazio secondo la mia esperienza per gestire più livelli perché lì sì che hai un vantaggio perché se devi scorrere anche in verticale per vedere ciò che ti sta creando l'immagine a schermo e allora diventa veramente fastidioso ma invece con questo monitor puoi avere effettivamente anche un tre livelli quattro livelli video un paio audio insieme nella stessa schermata e avere anche una buona anteprima del video molto interessante questo formato infatti mi è piaciuto che facendo un sondaggio su Twitter ho detto quale formato preferito ho messo il 16 noni il 3 mezzi e il 21 noni mi aspettavo perché sento parlare sempre di questo 21 noni che molti scegliessero quello invece è risultato il peggiore almeno nel sondaggio che ho fatto io tra i miei utenti e questo mi ha rincurato perché io stesso ho comprato più volte dei monitor ultra wide perché sono carini da vederli hanno un bel effetto poi alla fine li utilizzi e i vantaggi che ho trovato io sono solo due vedere tre documenti affiancati che lì si vedono meglio assolutamente qua due sì tre fatighi un po' e poi in alcuni giochi ecco tipo un gioco di macchine è carina perché ti crea proprio quell'effetto parabrezza sai la macchina da corsa stretto stretto largo largo però nell'uso quotidiano a me dà un po' fastidio insomma questo mi è piaciuto è uno spazio in più che riesco a gestire ed apprezzare meglio rispetto allo spazio in più ai lati quello in basso a me è stato più congeniale sicuramente ma probabilmente dipende dal tipo di lavoro insomma che uno fa con il computer comunque un prodotto che ripeto per 550 euro e quindi l'offerta migliore che ho visto più o meno in questo periodo è molto interessante rimane molto interessante perché rimane bello da vedere per chi non ha particolari esigenze anche audio lui comunque ti evita di attaccare delle robe esterne avesse avuto anche la webcam sarebbe stato ancora meglio è comunque un bello schermo insomma e soprattutto come dicevo se non hai bisogno di cose molto molto avanzate per quanto riguarda appunto stampa o anche produzioni comunque per il video che però devono essere veramente veramente a puntino insomma negli altri casi si comporta assolutamente bene quindi un prodotto che sì continuerei a consigliare per avere qualcosa di a tutto tondo insomma piuttosto semplice anche da capire e utilizzare ma d'altro canto onestamente sì dopo averlo provato dico che forse spenderei qualcosa in più perché necessariamente devi salire un po' di prezzo per comprare qualcosa di meglio se hai bisogno comunque di un pannello veramente di qualità e soprattutto di una migliore efficienza perché ecco secondo me qui si è persa anche la possibilità per poco per poco di creare proprio il monitor perfetto per il 90% degli utenti sarebbe bastato quel poco in più di attenzione sulla parte costruttiva secondo me sulla gestione delle porte e anche sulle opzioni del menu togliete le funzioni smart che sono carine bellissime però non fondamentali molto più utile sarebbe stato poter gestire per dire la tinta delle singole componenti cromatiche perché poi sapete bene che i monitor nel corso del tempo vanno a perdere efficienza magari soprattutto su una parte dello spettro cromatico e quindi i monitor seri hanno tinta saturazione eccetera addirittura per singola componente cromatica non dico che si deve arrivare a quei livelli su un monitor da 6-700 euro di listino però continuate a seguirci sul nostro canale telegram perché può capitare che magari vada in questa fascia di prezzo un prodotto che di base invece costi anche molto di più come alcuni top di gamma di BenQ che utilizzo io stesso per la produzione di contenuti che sono sicuramente più affidabili almeno dal punto di vista della resa colore come se dicano questo mi piace di più onestamente seppure per esempio nel mio BenQ le parti di metallo siano di metallo non di finto metallo che insomma ovviamente anche quello ha il suo peso in tutti i sensi grazie e alla prossima ciao